Da domani apre Casa Aterno al Donorione di Pescara, una struttura che accoglierà persone con disabilità anche gravi e prossime a perdere il sostegno familiare. Nasce dunque Casa Aterno, che verrà inaugurata alla presenza del Cardinale Bassetti, presidente della CEI. In una conferenza stampa in comune a Pescara è stata illustrata questa struttura che dispone di diversi appartamenti e fungerà da fulcro degli obiettivi del dopo di noi. All'incontro di oggi hanno preso parte il sindaco di Pescara Carlo Masci, il direttore dell'Istituto Donorione Renato Di Fiore e l'assessore comunale Nicoletta Di Misio. È rivolta soprattutto a disabili adulti ad alto funzionamento perché l'Istituto Donorione di Pescara, che sul territorio è conosciuto come centro di riabilitazione convenzionato con la regione Abruzzo, ha inteso iniziare un programma per rispondere ad alcuni bisogni specifici delle famiglie dei nostri ragazzi con disabilità. Io li continuo a chiamare ragazzi ma in realtà molti di loro cominciano ad avere 50 anni, 60 anni e quindi c'è il problema del cosiddetto dopo di noi, cioè le famiglie si cominciano ad interrogare e cominciano a riflettere su quale futuro possono dare ai loro figli nel momento in cui venissero a mancare uno o entrambi i genitori. Quindi inauguriamo questa residenza che è stata realizzata in parte con un intervento della nostra sede centrale, della provincia madre della Divina Providenza dell'Opera Donorione dalla quale noi dipendiamo e in parte è stata finanziata con un contributo proprio stanziato appositamente dalla Conferenza Episcopale Italiana e questa residenza sarà una residenza che avrà uno stile di vita familiare, quindi ci saranno persone con disabilità di diverso tipo, quindi dalle disabilità più lievi a quelle meno lievi, che provano a fare un esperimento insieme di vita autonoma, autodeterminata, quindi non si tratterà di un reparto ospedaliero sanitario ma si tratterà proprio di una residenza stile familiare dove ognuno potrà in qualche modo o in maniera autonoma, se è in grado di farlo, oppure aiutato dai familiari, dai caregiver e dai nostri professionisti sanitari potrà autodeterminare la propria giornata. Assessore, un altro tassello questo per il prezioso dopo di noi? Sì, un tassello importante perché dopo di noi è un aiuto fondamentale a quelle famiglie che si trovano in difficoltà e in realtà con dei figli che hanno dei problemi, quindi un ringraziamento forte va al Don Norione che si è impegnato per questa iniziativa e siamo ben felici e il Comune c'è e ci sarà sempre per questa iniziativa.